Il turismo risente dei lavori in autostrada. Cinque anni dalla tragedia del Morandi ad oggi e si continua a viaggiare tra restringimenti e cantieri. È così più facile venire in Liguria dall'estero che da Piemonte e Lombardia. La regione punta molto sui voli verso Genova. Ho chiesto se è possibile di puntare sul mercato del nord Europa e quindi mi piacerebbe molto portare un volo per esempio da Stoccolma. Abbiamo pensato anche al Belgio. I turisti che già sono predisposti a venire nella nostra regione. Per l'estate l'assessore punta molto anche sui collegamenti ferroviari. I treni per Dalle Cinque Terre ne avranno uno ogni 20 minuti come già accade da diversi anni. Abbiamo ricevuto una richiesta per esempio da parte dei comuni del Tiguglio per avere un servizio serale di treni supplementari sempre nel periodo estivo. Tra pochi giorni dal primo aprile l'Eurocity Zurigo Genova fermerà anche a Santa Margherita Ligure Sesti Levante. Un servizio che si unisce al treno notturno da Vienna a Genova con tappe a Rapallo, Levanto e Spezia. In termini di destagionalizzazione certo ancora non basta. Se è possibile implementare alcune fiere che possiamo organizzare sul nostro territorio vuol dire creare anche una serie di eventi anche organizzati dai comuni. Cioè non è solo una questione di scelte regionali. Cioè bisogna cercare un po' di fare squadra. Le sensazioni per l'estate 2023 sono ottime. Già full a Discovery Italy, l'avvio il 29 marzo al covo di nord-est, poi la due giorni 30 e 31 a Sesti Levante, dedicati all'incontro tra hotel e operatori con i migliori acquirenti stranieri e italiani. Stiamo già lavorando all'edizione dell'anno prossimo per avere una fiera anche direttamente all'aria aperta e una fiera in versione sulla spiaggia, magari dalla Baia del Silenzio.